Grazie a tutti Ci vediamo in aereo allora Ma una bella ripresa al nostro video da Tandem Ma non la facciamo? Che ne pensi del tuo video? Una schifezza Una fortuna esce questo video Allora dicevamo l'uscita la facciamo Grande! Studiatola perché ricordatola Insomma Guarda che bella coppietta Ma no? Siamo la coppia più bella Dai Lafra Lafranco Mamma mia È il primo passare fatto Ragazzi mi sta accendendo Almeno accendi subito il ventilatore Dai Lafra È il primo passare fatto La pre downtown Non d'abbè No, non mi sta accendendo La pregame Siamo dapp Shyam Ooliii OolennennennennennennN 10 at Sodiac Ragazzi, è la prima volta che... 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 Ragazzi... 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Che figata Insomma sto battesimo per volo Grande